Daniella Il dolore passa via con la sua terapia, il massaggio dolce e profondo. Daniella è molto brava, riscalda come una fiamma, i muscoli, la schiena o il collo. Tutto il corpo rilassato, il massaggio è stato fatto, il paziente sanno è buono. Daniella, Daniella, così brava e così bella, e sorride ogni giorno al mattino. Sono contenti i pazienti, anche loro soridenti, perché sempre c'è vicino Daniella. Sono contenti i pazienti, anche loro soridenti, perché sempre c'è vicino Daniella. Perché sempre c'è vicino Daniella. Perché sempre c'è vicino Daniella. Yes!